Boccata ad ossigeno per la Turris che superano sul proprio campo il Catania per 1-0. I Coralini partono bene con Longo e Tascone che provano a impensierire gli etnei da fuori aria, ma il diciottesimo è lo stesso Longo che, in mischia da calcio d'angolo, trova il guizzo vincente per il vantaggio dei suoi. Gli uomini di Caneo insistono e sfiorano ancora il gol con Romano e con Giannone che manca di poco il bersaglio dai 20 metri. Nel secondo tempo il Catania si fa vivo e trova il calcio di rigore per un ingenuo fallo di Romano su Calapai, ma dal dischetto a Bagnale compie la prudezza respingendo il tiro di Piccolo e tiene così in vantaggio la Turris. I patroni di casa superato il pericolo si riversano in avanti e vanno vicini al raddoppio prima con Giannone e poi con Franco che vede deviata la sua conclusione in angolo. Ma è di piazza a mancare la clamorosa occasione per il pareggio dei Rossoazzurri, da centro area e nel recupero è Clayton a graziare il portiere Corallino. Finisce quindi con il successo dei Corallini che ritrovano i tre punti dopo tre sconfitte e allontanano per il momento il rischio play out. Il ritiro voluto dal presidente Colantonio sembra aver avuto l'effetto sperato in vista anche dei prossimi impegni. La Turris domenica osserverà il proprio turno di riposo e tornerà in campo il 28 marzo sempre a Liguri contro il Catanzaro.